Allora ragazzi, faccio questo video senza montaggio, senza microfono, senza intro, senza questo e quell'altro perché penso che la cosa meno importante della questione attuale è pensare a montare e sistemare varie cose quindi ho preferito sputarvi addosso tutto quello che penso adesso, ovviamente sputarvi in senso metaforico su quello che è appena successo io non avrei mai pensato che la Roma mi avrebbe preso alla lettera quando ho fatto il video Petrachi non merita di essere il direttore sportivo della Roma probabilmente non hanno neanche visto il video, visto che appunto in quello stesso video dicevo che non lo meritava perché era troppo per noi fatto sta che pochi giorni dopo tutto quello di cui si parlava si è effettivamente confermato Petrachi è stato sospeso come direttore sportivo della Roma cosa significa? Che non è stato licenziato lo stipendio bisognerà comunque darglielo ma non svolgerà più il ruolo di direttore sportivo della Roma adesso io voglio prendere una citazione che probabilmente qualcuno di voi conoscerà per iniziare il mio discorso ma come cazzo si fa? ecco, io in questi giorni non ho quasi mai usato parolacce me ne saranno scappate due o tre in due settimane ma non ce la faccio non ce la faccio a non dirle perché quello che è successo adesso è allucinante è veramente allucinante e ci fa capire quanto la situazione all'interno della società della Roma sia a dir poco confusionalia ed è una cosa che non capisco perché nel periodo peggiore di quarantena ci sono state solo cose positive dichiarazioni positive fatte da dirigenti, giocatori eccetera eccetera tanti gesti comunque per le persone in difficoltà mandavano a casa gli oggetti, il cibo, queste cose qua comunque sembrava una situazione positiva a una settimana, anzi facciamo a dieci giorni dal ritorno del campionato è scappato il putiferio interviste di qua, interviste di là e giocatori che partono e motivazioni basse e questo e quell'altro Petraghi sospeso ma che cazzo sta succedendo? ma cosa sta succedendo? io vi giuro è una cosa che fatico a comprendere fatico a comprendere e io mi auguro di buon cuore che sia successo qualcosa di davvero grave non perché voglio che sia successo ma perché almeno è una sorta di giustificazione per quello che hanno fatto oggi cioè tu oggi hai mandato il mio direttore sportivo dopo neanche un anno che ce l'hai avuto al comando cioè Monci l'ha dovuto tenere due anni interi e ha dovuto aspettare che sminchiasse la squadra spendendo una barca di milioni per giocatori che non vi sto qui ad elencare perché non voglio vomitare ancora devo cenare quindi voglio mantenere il mio stomaco pulito se così possiamo dire cioè Petraghi lo hai tenuto poco più di sei mesi ha fatto un lavoro secondo me ottimo se consideriamo il fatto che molti giocatori comunque anche quelli negativi non ti sono costati nulla ha venduto un sacco di giocatori esuberi li ha mandati via quasi tutti e venitemi a dire quale DS sano di mente avrebbe quale DS avrebbe potuto mandarli via tutti in una botta sola trovatemene uno ha fatto acquisti mirati ha reso la squadra positiva una squadra migliore rispetto alla scorsa stagione spendendo molto di meno e viene mandato via così io spero che non sia per quelle dichiarazioni che tutti quanti abbiamo saputo spero che ci sia qualcos'altro sotto perché non veramente non posso credere che sia stato mandato via solamente perché ha detto che c'è un motivo del perché qua non vinciamo nulla cioè io non lo so cioè non ho mai visto almeno da quello che ho potuto vedere nelle interviste un atteggiamento ostile di una persona che non voleva stare qua e non voleva fare bene qua io ero contentissimo al momento del suo arrivo perché con il Torino aveva fatto delle buonissime cose aveva preso giocatori importanti in Culu Izzo Siri Ubelotti Zata un po' meno però aveva fatto dei buoni acquisti mi sembrava un direttore sportivo capace un direttore sportivo che conosce la Serie A un direttore sportivo giusto per ricominciare un percorso e noi cosa facciamo? quando ricominciamo un percorso dopo sei mesi lo ricambiamo di nuovo ma perché? perché? io vi giuro io sto facendo fatica a capire perché abbiamo fatto una cosa del genere ma dopo come faccio ad avere fiducia nel progetto Roma io cerco sempre di essere positivo cerco sempre di vedere le cose con la giusta attenzione anche quando c'era stato questo casino in cui c'erano le prime voci di cui si parlava di un possibile licenziamento per giusta causa di Petrachi io ho fatto un video dicendo di stare calmi di non dare retta a tutto quello che dicono i giornali perché molti ci marciano sopra ma a questo punto io vi chiedo scusa vi chiedo scusa perché a quanto pare certe cose erano vere e mi dispiace cioè io non ho detto che non erano vere ho detto semplicemente che bisogna avere prima delle certezze come l'ha stato il comunicato di oggi prima di poter parlare però mi dispiace perché io ero convinto che fosse tutto ingigantito per creare qualcosa ad hoc per rovinare di nuovo l'ambiente Roma invece effettivamente è così Petrachi è stato allontanato dalla Roma e io adesso voglio un chiarimento io adesso non mi basta un cazzo di comunicato in cui si dice Petrachi sospeso che mi significa tu mi devi spiegare per filo e per segno perché uno non hai mai parlato di questa cosa nelle interviste fatte caro pallotta due perché Petrachi è stato allontanato ad una settimana dall'inizio del campionato me lo devi spiegare poi tra l'altro De Santis ma perché De Santis ma perché ma io posso capire sei in una situazione particolare non è che puoi prendere un direttore sportivo lo fai venire adesso gli succede quello che è successo con Petrachi la società che lo detiene ti può multare ti può denunciare possono succedere casi eccetera eccetera quindi sicuramente è una soluzione di emergenza ma De Santis ma che minchia ne sa De Santis dei giocatori non ha costruito rapporti con nessuno perché bisogna anche fare questo con i giocatori prima di acquistarli non conosce certe cose o magari le conosce io non lo so magari abbiamo in casa il direttore sportivo più forte del mondo non lo sapevo ma per l'amor del cielo per l'amor del cielo ma dove vogliamo andare io sono il primo che cerca sempre di ragionare su tutte le cose che succedono sono il primo che cerca sempre di mantenere la calma soprattutto in questo ultimo periodo ho sempre cercato di non dare troppo corda ai giornalisti e cercare sempre di mantenere l'ambiente tranquillo però non vi giuro senza parole io appena ho scoperto questa cosa sono rimasto allibito ho detto ma come sospeso e mo mo che cazzo facciamo per carità non è che Petrachi era la Roma cioè perché qua molti sicuramente penseranno eh mo che non c'è più Petrachi pensi che c'è il disastro cioè tu qualche giorno fa hai detto che non possiamo dipendere da un giocatore quindi sicuramente non possiamo dipendere da un dirigente ma è un esempio è un segnale non è che Petrachi è la Roma ma al tempo stesso tu hai mandato via un direttore sportivo con il quale volevi ripartire non è che tu ce l'hai avuto da qualche anno e vabbè ci sta non è neanche in quel caso ci sta però tu hai preso lui e Fonseca per ripartire dopo un disastro collettivo e cosa fai lo cacci via per qualche dichiarazione così io non voglio starmi troppo a dilungare perché devo tornare a casa ho fame non voglio dilungare troppo perché mi sto veramente innervosendo ma mi auguro di tutto cuore che non sia un qualcosa derivato da incomprensioni perché uno non ha letto tutta l'intervista perché quello ha detto così perché sarebbe da asilo nido cioè veramente io mi auguro che non ci sia stata una discussione perché Petrachi eh non mi ha nominato nell'intervista e questo è quell'altro quando magari invece era vero io mi auguro che non sia una cazzata del genere il motivo della sospensione mi auguro che Petrachi abbia detto figlio di puttana muori pallotta cioè in quel caso lo posso accettare ma per il resto boh cioè io purtroppo una delle notizie che ho letto in giro è che Petrachi si è rivoltato verso la società perché a quanto pare con il coronavirus e tutta la crisi del momento verrà fatto un mercato non in linea con le sue aspettative io purtroppo non voglio pensarla così ma è l'unica motivazione che mi trovo il fatto che lui e la dirigenza abbiano discusso perché appunto lui voleva fare qualcosa la dirigenza ha detto invece che doveva fare tutt'altro non lo so non lo so fatto sta che brancoliamo nel buio comincio ad avere sempre meno certezze su questa società vendere o non vendere io sinceramente ho ben poche speranze e se ero ottimista fino a qualche giorno fa per il ritorno del campionato dopo aver visto quello che sta succedendo rimango allibito poi in campo che ovviamente non ci va Petrachi per l'amor di cielo tra l'altro qualcuno dice boato dei giocatori ma come cazzo è possibile ma questo era veramente così tiranno sto Petrachi non mi pare cioè addirittura qua parlano di gente che esultava di giocatori che esultano al momento ma perché perché mi spiegassero io ho visto la notizia sono rimasto disgustato l'unica cosa che può accadere per alleviarmi il rancore la rabbia è aiutarmi a fare capire quindi fate chiarezza il prima possibile fatemi capire perché Petrachi è stato sospeso fatemi capire perché devo mettere le mie speranze in De Santis in De Santis giusti Santi possiamo chiamare giusti Santi e che dire fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate io avevo programmato un altro video volevo parlarvi del fatto che oggi sono state ufficializzate le date di Europa League Champions League lo caricherò domani magari quello un po' più montato perché comunque merita più attenzione che finaccia che finaccia le altre squadre alzano i trofei in una delle annate peggiori degli ultimi dieci anni e noi stiamo come sempre a leccarci le ferite a rosicale e a vedere che in dirigenza fanno di tutto per metterci in difficoltà per farci arrabbiare di più non per farci stare tranquilli io ti accetto anche che in dodici anni non abbiamo vinto un cazzo di trofeo ma almeno un minimo di attenzione un minimo di attenzione per il campo non solo per iniziative benefiche che ci stanno io le accetto non è che sono cazzate sono cose giuste ci mancherebbe però se io l'unica cosa per cui devo essere orgoglioso della mia squadra è iniziative benefiche è contro il razzismo e questo e quell'altro mi rodono un po' i coglioni perché se fossimo un'associazione Ollus lo potrei anche capire ma essendo un'associazione sportiva di calcio mi aspetto che certe cose non succedano o che perlomeno se succedano mi devono dare un motivo plausibile un saluto dal vostro Gletor e Giallorosso sempre e comunque forza Roma ma mi sembra ovviamente scontato solo i colori solo la maglia punto e basta perché nel casino generale io tutto mi sento tranne che rappresentato da una società del genere ciao ragazzi e vi chiedo scusa se qualcuno di voi pensare che sia incoerente ma perdonatemi se sono deluso per l'ennesima figura di merda che la nostra società ha fatto nelle ultime ore ciao ragazzi grazie grazie a tutti